Doveva essere il giorno dello sfratto della comunità musulmana dalla moschea di Piazza dei Cionpi, ma come previsto è stato rimandato. Nessun motivo di ordine pubblico stavolta. Il primo sfratto fu fissato il 16 dicembre scorso, con la proprietà sempre più decisa a tornare in possesso dell'immobile. Si aspetta solo il trasloco dopo che finalmente una soluzione alternativa è stata trovata. A pochi passi in realtà la nuova moschea nascerà dall'altra parte del giardino, sempre in Piazza dei Cionpi. L'ufficiale giudiziario si è effettivamente presentato stamani, ma per firmare formalmente il rinvio al 12 luglio. Comunità e proprietà si potrebbero incontrare la prossima settimana per un ritiro formale dell'ingiunzione, anche se l'imam su questo parla ancora al condizionale. Lo scopo è non lasciare la comunità musulmana senza un luogo di culto e traslocare solo quando la nuova moschea sarà pronta. Finché non sarà agibile, perciò ci vorrebbe lavori anche all'interno, tutto quanto, stiamo correndo. La burocrazia nostra è un po' particolare, perciò non si può individuare per il momento una data precisa. Il costo della nuova moschea è di 1,2 milioni di euro, tutti autofinanziati. Il termine ultimo di pagamento è inizio settembre e il 10% è già stato versato. Grazie. Grazie a tutti.